Amici, bentornati sul canale Nomenergie, elaborazioni autosportive. Anche oggi volevo trattare un argomento di carattere generale, quindi non parliamo di qualche lavoro fatto sulle macchine che regolarmente c'entrano in officina, ma volevo fare un punto della situazione e chiedere alcune cose su quelle che sono le novità a livello assicurativo, siccome spesso abbiamo ricevuto delle richieste, delle domande da parte dei nostri utenti che ci chiedono che cosa cambia a livello assicurativo, hanno sentito che cambiano determinate cose e volevamo, per quello che noi non siamo assicuratori, per cui abbiamo recuperato un po' di informazioni e cerchiamo di trasferirvele per quelle che sono le conoscenze che abbiamo recuperato. Partiamo dal concetto che la situazione è abbastanza confusa, non c'è una chiarezza cristallina, visto che è una normativa che l'Italia ha rimandato per un certo numero di anni che viene imposta più che altro dalla comunità europea, in sostanza che cosa dice questa normativa e qual è la novità? Che dal 2024 tutte le macchine, tutti i mezzi immatricolati, quindi come mezzi intendo anche non solo le autovetture, ma rimorchi, carrelli di qualunque genere, moto, cioè qualunque cosa che abbia una targa che sia sottoposta ad assicurazione deve essere necessariamente coperta dalla polizza assicurativa, quindi che cosa cambia rispetto ad adesso, rispetto a dicembre dell'anno scorso? Che fino a dicembre dell'anno scorso la normativa prevedeva che qualunque mezzo targato in area pubblica, quindi in strada, nei parcheggi dove potevano accedere persone e quant'altro, doveva necessariamente essere assicurato, anche se non veniva utilizzato una macchina magari parcheggiata sul marciapiede, poteva comunque creare o generare dei pericoli durante un incidente o qualunque altra cosa, per cui giustamente anche la macchina che non veniva utilizzata, ma che era su una zona dove potevano transitare delle persone, doveva per forza essere assicurata. Quello che cambia è che adesso anche mezzi che non sono sulla strada o in zone dove c'è passaggio di persone, ma che sono parcheggiate all'interno, faccio l'esempio di zone più limitate e mi viene in mente i cortili condominiali, in quel caso se la macchina è già, il cortile condominiale ha un accesso di persone però limitato, si pensa ai soli condomini. Il fatto di parcheggiare una macchina all'interno e non assicurarla in alcuni casi ha creato delle problematiche, cioè io credo che sia, diciamo che da questo punto di vista, per questo specifico problema abbiano fatto un passo in avanti, nel senso a me è proprio capitato anche personalmente, quindi do anche una mia esperienza personale, mi è capitato che dove abbiamo noi la sede c'è un cortile interno e un condomino facendo manovra ha urtato la mia moto che è caduta e ovviamente ha avuto dei danni. Questo è successo l'anno scorso, questo tipo di sinistro le assicurazioni non contemplavano il risarcimento perché era all'interno di un'area, chiamiamola privata, quindi loro pagavano solo per quello che erano i danni, se la stessa situazione fosse successa sul marciapiede di fronte al negozio non ci sarebbero stati problemi, all'interno del condominiale l'assicurazione non ha coperto il sinistro, quindi chi mi ha urtato la macchina ha dovuto sborsare di tasca sua e mettermi nella condizione di riparare i danni che aveva creato, quindi il fatto di estendere questo obbligo anche nelle aree condominali sicuramente è un beneficio. Quello che non è ancora chiaro è cosa succede nel momento in cui uno va ancora più indietro, la chiudo dentro al box la macchina oppure ho una villetta privata, un giardino privato dove ci posso entrare, si suppone ci posso entrare solo io e nessun altro, perché devo essere obbligato ad assicurare, in questo caso generalmente queste situazioni sono legate a macchine o moto storiche, sono tante persone che hanno la passione delle macchine storiche o delle moto storiche e non per questo devono assicurarle tutte, quindi capita una casa in campagna, uno ha una moto storica che ogni tanto si mette lì, se la sistema, se la restaura piano piano, fino adesso non era necessario, a meno che questa moto poi non venisse utilizzata in strada ovviamente, fin tanto che rimaneva chiusa all'interno dell'area privata, uno poteva tranquillamente non assicurarla. Adesso non è chiara questa cosa qua, l'aspetto che non è chiaro è appunto il fatto che se questo mezzo targato è all'interno di un'area dove la fruibilità è solo del proprietario debba o meno essere assicurata. Diciamo che è anche vero che se anche, spero che chiariscano questo dettaglio nei prossimi mesi perché ci sono tante persone che hanno a volte anche decine se non centinaia di mezzi che fino all'anno scorso non erano gravati da questo costo, quindi il fatto di essere obbligate ad assicurarle o meno cambia economicamente, per alcune persone cambiano economicamente, magari alcune persone che hanno disponibilità economiche enormi non gli cambia la vita, ma altri che con i sacrifici si sono messi da parte, quelli due o tre pezzi storici e il fatto di doverle assicurare è un extra costo che non avevo previsto. Io trovo onestamente questa parte abbastanza incongruente perché normalmente, facciamo l'esempio della casa in campagna dove io tengo la moto, normalmente chiunque ha una casa autonoma ha un'assicurazione che copre tutto quello che succede nella casa, se dovesse succedere un qualche cosa legato al fatto che la moto casca perché qualcuno, l'operaio che era lì vicino l'ha toccata e gli è finita su una gamba, in ogni caso il danno avrebbe pagato comunque dall'assicurazione che copre la casa, quindi il fatto di doverla assicurare ulteriormente dal mio punto di vista è un favore che fa più piacere alle assicurazioni che non ad altre. Io spero, mi auguro che si vada a definire in maniera precisa e dettagliata questo aspetto perché ripeto, io sono un appassionato anche io di autostoriche, di motostoriche e sarebbe comunque un aspetto deleterio per tutti quelli che hanno questo genere di passione. Non si crea nessun valore aggiunto, chi ci guadagna sono solamente le assicurazioni, quindi questa è un po' la situazione. Diciamo che per concludere le informazioni che abbiamo preso, questa nuova norma dà comunque la possibilità per mezzi che non vengono praticamente utilizzati di fare sì l'assicurazione, ma di poterla sospendere per una macchina normale che non è storica per non oltre dieci mesi sull'annualità, quindi uno ha una macchina normale, non la usa, scala due mesi ogni anno perché almeno due mesi deve essere assicurata, mentre un mezzo storico può essere sospeso per non più di undici mesi, quindi significa che ora che uno va a spendere, a consumare tutta la polizza, dovendo ogni anno scalare un anno, questa polizza qua chiaramente gli copre un periodo quasi infinito, voglio dire, ci mette veramente tanto a… e poi comunque sia il costo delle polizze, dei veicoli storici sono delle polizze che hanno dei costi molto relativi e quindi non sono delle grosse cifre, però in ogni caso secondo me sarebbe meglio fare chiarezza su questo argomento e magari escludere quelli che sono mezzi chiusi in zone dove chi ci può mettere piede è solamente il proprietario, mentre per il resto hanno fatto sicuramente un passo in avanti, hanno tolto una stortura sulla quale le assicurazioni ci hanno giocato e spesso a danno di coloro che hanno avuto appunto dei problemi. Io spero per il momento di avervi dato anche questo alcune informazioni in più, sicuramente ce ne saranno altre perché nei prossimi mesi verrà chiarita meglio la situazione, se avete da aggiungere o… se ci sono persone fra di voi più informate sull'argomento, mandateci appunto i vostri commenti perché servono anche per diffondere queste informazioni ad altri che appunto non ne sanno molto. Per il resto io direi è tutto, cliccate sulla campanella e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su quello che noi facciamo. Un saluto, alla prossima! Grazie a tutti!